Siamo qui ben ritrovati, è il giorno attesissimo di Bari-Foggia e nel giorno del derby da Puglia riaprono anche gli stadi, non evidentemente per il match del San Nicola ma per un'altra sfida molto più importante perché questa sera a Reggio Emilia va in onda la finale di Coppa Italia fra Juventus ed Atalanta e ci sarà la possibilità per oltre 4.000 spettatori di assistere a questa partita. Chissà cosa sarebbe stato invece del derby di Puglia se si fosse concretizzata la possibilità di aprire le porte agli spettatori e di vedere dunque le due tifoserie regolarmente sugli spalti ad incitare la propria squadra del cuore. Sarebbe stato uno spettacolo sicuramente suggestivo per una gara che non ammette appelli e una gara che è da dentro a fuori perché sapete insomma soltanto una delle due formazioni poi attorno alle 20 questa sera potrà proseguire la sua corsa eventualmente verso la promozione in serie B. Come ci arrivano le due squadre a questo appuntamento che vale una stagione soprattutto per la formazione bianco-rossa? Beh il Foggia sicuramente con la forza dei nervi distesi non ha nulla da perdere in questo match ha già dato il meglio di sé in questa stagione. Peccato che questi 90 minuti non li possa giocare con tutti gli effettivi a disposizione perché saprete della defezione causa Covid di Del Prete e Rocca che priva il Foggia insomma di due suoi titolarissimi. Però è un Foggia gasato a mille, è un Foggia che sicuramente questa partita se la giocherà fino in fondo e soprattutto cercherà di riscattare il match dello scorso febbraio insomma quando perse in superiorità numerica una partita che in un'altra condizione insomma avrebbe potuto portare tranquillamente a casa. Curiosità c'è invece attorno al Bari di Gaetano Auteri che non scende in campo da 17 giorni, che ha chiuso malissimo la sua stagione regolare e che è chiamata ad una prova d'orgoglio proprio nel derby contro i cugini rossoneri. È una gara comunque che non ha un favorito d'obbligo, è una gara davvero aperta ad ogni risultato anche se è una riflessione insomma me la consentirete. Beh vedete il Foggia purtroppo nelle sue fila non ha giocatori abituati a giocarsi sfide secche come quelle dei playoff e soprattutto non ha nella sua rosa elementi abituati a vincere questo può essere un limite. Andate a scorrere invece i nomi che compongono la rosa del Bari e vi renderete conto che ci sono tutti fior di giocatori che hanno già vinto i prof o che comunque i campionati li hanno vinti a cominciare dall'allenatore Gaetano Auteri che è una garanzia per questa categoria. Ma poi c'è l'imponderabilità del calcio così come la chiamava Caramanno. E allora può davvero succedere tutto ed il contrario di tutto. Chissà con quale stato d'animo il presidente Maria Assunta Pintus oggi seguirà questo match, sarà evidentemente in tribuna. Si sussurra che al suo fianco potrebbe esserci anche Nicola Canonico, l'imprenditore che ricorderete tempo fa sembrava interessato a rilevare il foggio, poi non se ne fece nulla, sarà un ritorno di fiamma, non lo sappiamo anche se le nostre informazioni in possesso ci portano a credere che Canonico in questo momento sia soprattutto interessato al Taranto che tra brevissimo sarà promosso in Serie C. Una gara da vivere tutta ad un fiato, a partire comunque dalle ore 17.45, tutti davanti a uno schermo non succede, ma se per caso dovesse succedere andate in processione e andate a ringraziare chi evidentemente di dovere. Vi aspetto domani, ciao grazie.